A quattro anni esatti di distanza dall'affondamento del barcone avvenuto il 18 aprile 2015 nel canale di Sicilia e che causò la morte di circa 800 migranti rimasti imprigionati al suo interno. Ricevono una prima risposta positiva le istanze del comitato 18 aprile di Augusta dell'amministrazione comunale e della comunità cittadina. Possiamo infatti annunciare con soddisfazione, afferma il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro, che il ministero della difesa, proprio giovedì 18 aprile, ha deciso di assegnare il barcone alla città di Augusta con un atto di cessione approvato dalla giunta comunale, che è stato anche formalizzato tra il comune e il comando di mare Sicilia. L'impegno e la volontà dell'amministrazione comunale e del comitato 18 aprile, continua il sindaco di Augusta, di conservare il relitto per realizzare il giardino della memoria. Non è mai venuto meno e si potrà così iniziare con la collaborazione di tutti a creare un luogo dove conservare e fare memoria del fenomeno più rilevante del nostro secolo, le migrazioni, di cui Augusta è stata ed è testimone e protagonista negli ultimi anni. Come si ricorderà, un anno dopo il suo affondamento, il barcone è stato recuperato con una complessa operazione disposta dal governo italiano e trasportato alla base della Marina Militare di Augusta, dove si trova dal 30 giugno 2016. Si costituì subito il comitato 18 aprile che chiese alle autorità competenti e alle istituzioni locali che il relitto del peschereggio non fosse né demolito né trasferito altrove, ma che rimanesse ad Augusta in un'area dove realizzare un giardino della memoria, nel ricordo alle vittime delle migrazioni. Ultimata la pietosa opera di rimozione delle centinaia di salme, il relitto è rimasto ad Augusta, in attesa che si decidesse del suo destino finale, che oggi è arrivato. L'amministrazione comunale di Melilli non può non rispondere alle accuse pretestuose formulate dai consiglieri comunali della minoranza, ritorniamo al futuro, in cui chiedono l'intervento della deputazione a Retusea sulle vicende giudiziarie che riguardano il comune di Melilli e chiedono le dimissioni del sindaco, adducendo falsi motivi come quello dell'immobilismo dell'amministrazione comunale. Questa amministrazione comunale, si legge nel comunicato stampa dell'amministrazione, sta invece dimostrando un grande senso di responsabilità e di autorevolezza, tenendo la schiena dritta anche in presenza di immotivati attacchi politici che tendono solo a strumentalizzare l'autonomia della magistratura, gettando fango sul comune di Melilli, che comunque non solo ha garantito continuità amministrativa, ma si è sin da subito attivato affinché vi fosse maggiore trasparenza ed efficienza. A Francofonte saranno avviati tre cantieri di lavoro, una boccata d'ossigeno quindi per 30 lavoratori. Per il sindaco Daniele Lentini e l'assessore alla cultura e politiche scolastiche Giussi Tuzza, si tratta di un ampio respiro e una boccata di ossigeno per il Paese in tempi di crisi. Tre in tutto i cantieri approvate dal Dipartimento regionale, il cui finanziamento ammonta complessivamente a circa 85 mila euro. Completata l'istruttoria nel mese di settembre, la macchina si mise in moto per l'avvio dei progetti esecutivi elaborati dai funzionari incaricati. Lo scopo, ha detto il sindaco di Francofonte Daniele Lentini, è quello di coinvolgere i destinatari del beneficio, non solo dal punto di vista del sostegno economico, ma anche per restituire dignità a chi ha perso il lavoro. Gli interventi consentiranno di svolgere attività di collaborazione con gli operatori specializzati dell'amministrazione comunale per la sistemazione del verde pubblico, la vigilanza nelle scuole, la pulizia di strutture pubbliche.